bomba ragazzi e bentornati su no mamma mazzo tre anni fa circa ho fatto la recensione cotta e frullata di shazam ma quest'anno voglio fare qualcosa di diverso qualcosa di meglio vedremo posso fare di meglio ci siamo quasi ebbene sì torniamo a parlare di shazam shazam fury of the gods furia degli dei dopo più di tre anni dal primo film e dopo più di tre anni dalla mia recensione di shazam 1 che vedendolo adesso mi sembra davvero alle prime armi se non negli intenti perché comunque ci avevo messo un po di di creatività e fantasia sicuramente nei nei risultati non voglio mettermi a cucinare di nuovo in case d'altri per fare la recensione di shazam quindi questa sarà una recensione più recensione un po più semplice ma soprattutto non starò come nella nell'altra recensione a raccontarvi tutta la storia anche editoriale di shazam l'ho già detta in quel video se siete interessati al personaggio di shazam io quel video ve lo metto qua anzi ve l'ho già messo qua nelle schede e ve lo metto qua in descrizione così potete ascoltare la prima parte di quel video per capire come nasce shazam le sue origini fumettistiche la prodo alla dc comics eccetera 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 fino a poi a parlare della recensione del primo film ma qua invece mi concentrerò semplicemente sulla recensione del secondo shazam furia degli dèi anche perché dobbiamo un attimino parlare del fatto che shazam sia come personaggio sia come linea di film è collocata all'interno del dc extended universe che è l'universo della dc comics cinematografico che sta per essere a breve resettato dal piano di james gunn james gunn ha preso in mano le redini di tutta la l'unità entertainment della dc comics il dc extended universe non si chiamerà più così semplicemente sono chiamati dc studios che sarebbero una sorta di marvel studios della dc comics che finora non c'erano stati i dc studios sono in mano a james gunn non solo a james gunn ma io parlo dal lato creativo e james gunn oltre a dirigere il primo film del del suo nuovo universo che si chiamerà superman legacy sarà diciamo coinvolto dal punto di vista creativo in tutto il rilancio di questa serie di questo filone cinematografico ma non c'è ancora chiaro cosa succederà a la linea precedente dei del dc extended universe quindi tuttora si chiama così e quindi non c'è ancora chiaro cosa cosa ne sarà dei personaggi attuali anche se james gunn medesimo che è uno che usa molto twitter ci ha spiegato che alcuni attori potrebbero venire ricastati e altri attori invece potrebbero rimanere quelli di prima questo perché sarà un soft reboot quindi non necessariamente verrà tutto totalmente cancellato per ripartire da zero ma parafrasando le cose buone si terranno e secondo me tra le cose buone c'è proprio shazam e c'è proprio zachary levi mettiamoci anche il fatto che comunque shazam usa la magia quindi perché no potrebbe trascendere potrebbe salvarsi da questo reboot da quel da questo reset della linea temporale che dovrebbe avvenire a causa di flash e del suo prossimo film che dovrebbe uscire se non sbaglio quest'estate che servirà tra le varie cose a sistemare un pochino tutti tutti i flop cinematografici che la dc ha avuto finora non ultimo black adam e ci tengo un po a collegarmi anche a questo perché black adam è legato a doppio filo al personaggio di shazam sono entrambi dei maghi che hanno dei poteri cioè scusate sono entrambi dei dei supereroi delle persone con superpoteri a causa della magia sono state donate questi poteri sono stati donati da dei maghi sia shazam che a black adam e all'epoca quando uscì il primo shazam la speranza di tutti era che nel secondo il villain principale di questa pellicola sarebbe appunto stato black adam e sapevamo tutti che lo avrebbe interpretato the rock perché the rock è da dal 2007 che ci ci frolla i maroni col fatto che voleva un film su black adam peccato che credo anche a causa dell'ego smisurato di the rock che per carità è un bravissimo entertainer ha probabilmente voluto un film in solitaria per il suo personaggio e magari poi lo avremmo visto in un terzo film scontrarsi con con shazam per carità nulla di male c'è stato anche un altro villain che è stato accennato nel finale del primo film che era il vermiciattolo che non so come come si chiami però quello insieme al dr sivana avrebbero tramato qualcosa e si sarebbe visto in futuro peccato che in questo film non c'è stato nulla di tutto ciò ci sono stati ci sono state delle divinità dei personaggi originali non tratte dai fumetti e io che comunque non sono un lettore dei fumetti di shazam se non per averli recuperati dopo dopo il film era un po preoccupato di questa scelta perché con tutti i personaggi che sono stati creati dagli anni 40 ad oggi mi è sembrato strano dover creare proprio dei personaggi originali per farli scontrare con il nostro supereroe e temevo che i fan si sarebbero lamentati ma devo dire che sono stato mi sono davvero ricreduto perché il film è davvero bello il film ha la stessa qualità la stessa lo stesso cuore che aveva il primo film il primo capitolo non si sente affatto che questi personaggi sono stati scritti appositamente per il film ci stanno benissimo nella storia è vero non sono magari molto esplorati non sono molto tridimensionali ma fondamentalmente sono delle divinità è normale per noi umani non comprendere diciamo i loro capricci quindi forse anche voi con questo escamotage di essere appunto delle divinità le figlie di atlante è normale che siano semplicemente ai nostri occhi dei cattivi perché sì perché vogliono riprendere quello che gli è stato portato via in realtà sono hanno anche uno scopo abbastanza preciso uno scopo vendicativo crudele ma perché no ci può stare ci può stare anche nel mondo reale lo abbiamo visto di recente tra le cause tra le motivazioni di questi villain c'è anche in un certo senso l'odio verso l'umanità il disprezzo il considerarci delle formiche che hanno rubato la loro scintilla la loro essenza vitale quindi ci può anche stare è uno sterminio di scarafaggi se io dovessi sterminare degli scarafaggi non dovrei mostrare le mie motivazioni per loro sono un mostro enorme super potenziato e quindi la scrittura per certi versi mi ha stupito mia o meglio ha confermato la qualità del primo film che ho apprezzato tantissimo ci sono alcune cose che non mi tornano non è proprio spoiler perché è un personaggio che si vede anche nel trailer c'è ancora lo stregone che dai poteri a shazam quando nel primo film era palesemente diciamo si era si era dissolto in polvere dopo che aveva dato i poteri proprio a billy buxton e quindi era naturale pensare che fosse morto ora qua diciamo lo spiegano tra molte virgolette perché non è morto o comunque il fatto che si trova su un piano diverso della realtà ciò nonostante poi pare riuscire tranquillamente a stare nel nostro mondo dei vivi senza troppe spiegazioni ecco questa è una delle piccolezze che non ho apprezzato molto anche perché potevano benissimo utilizzare un altro personaggio o spiegarla meglio la sua presenza c'erano mille modi però per carità non è non è su questo su cui mi voglio attaccare e poi ci sono altre un altro paio di scelte di sceneggiatura un altro paio di deus ex machina durante il film per mandare avanti il film che ho un pochino notato come la stanza diciamo chiamiamola la stanza dei segreti che usa pedro ecco per dire le cose senza dirle troppo in maniera spoilerosa a un certo punto c'è una stanza che usa solo pedro e la tira fuori quando serve però è un po strano che la nasconda finora ci può stare ci può stare ma questi sono un po trucchettini di scrittura che uno vede dice ok non sapevano cosa fare per mandare avanti la situa e hanno messo questa cosa però sembra proprio che l'hanno ficcata durante durante lo sviluppo creativo della trama niente di male però potevano rivederla un attimino meglio per quanto riguarda invece la regia di questo film ho continuato a apprezzarla se avete visto appunto il mio vecchio video sulla sul primo film dicevo che io ci ho notato lo stesso cuore che c'era nei primi film di spider-man quelli di sam raimi quindi anche un po la stessa storia classica di supereroi qua chiaramente si va avanti con la storia e quindi non è più così classica ci sono ci sono altre cose da raccontare però ho notato sempre quella quell'amore quella quella classicità nella raccontare una storia epica supereroistica ma anche una storia di famiglia e appunto oltre a delle inquadrature che io definisco reimiane quindi con dei dei primi piani molto ravvicinati di alcune scene ho trovato anche delle piccole citazioni a zack snyder non so se è un omaggio voluto dato che non lo so il regista voleva dire siamo ancora parte di quell'universo però ci sono stati un paio di rallenti secondo me che sono stati anche un po esagerati una scena che vediamo sempre nel trailer quindi non è spoiler quindi quando c'è un personaggio che prende un fulmine è super rallentato è super rallentato e zoomato in cgi e mi ha ricordato molto sniper non in senso positivo però credo che il regista abbia proprio voluto omaggiare altri registi dei cd cinecomics in generale di film di supereroi per quanto riguarda invece i personaggi che sono un po il cuore di questa pellicola sono stato davvero contento di vedere come li hanno gestiti li hanno gestiti molto molto bene però per parlarne dovrei fare apertamente spoiler quindi se non avete ancora visto il film vi chiedo di fermarmi un attimo qui e non ascoltare e tornare quando l'avete visto ovviamente se invece avete visto il film potete proseguire tra 321 la shazam family è stata gestita egregiamente perché appunto il film deve comunque concentrarsi su shazam su billy buxton che è il protagonista ma alla fine del primo film billy aveva appunto donato i poteri a tutta la famiglia tutta la shazam family quindi non solo a freddy che è stato un po il suo primo assistente nei fumetti una sorta di di robin di shazam né tanto a mary marvel che è stata appunto la prima chiamiamola bat girl della della famiglia shazam ma gli ha proprio dati a tutti i sette fratellastri che aveva incontrato nel primo film come c'è stato nel nel rilancio della dc comics non so se era in new 52 o rinascita addirittura fatto sta che lui ha dato i poteri a tutta la shazam family è difficile gestire sei personaggi con i superpoteri ma con anche con un trucchetto narrativo sono riusciti a incentrarsi comunque su i diciamo i singoli problemi di ognuno di loro magari chi più chi meno ci sono personaggi un po più trascurati altri un più approfonditi e alcune vie di mezzo per poi appunto tornare a a incentrare il focus su billy come l'hanno fatto semplicemente mostrandoci una fantastica scena iniziale dove la shazam family che in questo film viene chiamata il philadelphia il philadelphia fiasco collabora per salvare le persone dalla caduta di un ponte per poi far arrivare i villain che hanno appunto tra le altre cose il potere di togliere il potere di shazam alla shazam family quindi prima vediamo freddy che non ha più la possibilità di trasformarsi poi vediamo pedro e così via e questo ci permette un attimino di concentrarsi di nuovo su billy che alla fine del terzo atto scusate che nel terzo atto sarà poi l'unico ad avere i poteri di shazam e quindi questo spiega anche in maniera logica come può essere lui il l'eroe il protagonista della situazione senza che riceva aiuto dagli altri mi è piaciuto anche come il finale sia stato spiegato egregiamente a livello di sceneggiatura durante i primi atti del film ci spiegano due cose prima ci spiegano che il bastone è come una batteria una batteria che quando viene accumulata troppo quando accumula troppo potere può esplodere lo abbiamo visto anche in spider man in amazing spider man 2 quando peter cerca dei modi per combattere electro e poi ce lo fanno vedere anche visivamente quando la sfera quella magica palla anni 80 che ha tutte le diciamo tutti i fulminini interni esplode per un accumulo di energia è una citazione a quello che poi avverrà nel finale quando questa cupola che viene ridotta da da spera esplode ricordando appunto la palla che c'era nella camera di billy nel secondo atto dal punto di vista invece delle interazioni familiari il focus all'inizio ha incentrato molto su freddy che diciamo cerca di bilanciare questa sua questa sua sensazione questo suo sentirsi da meno rispetto ai propri coetanei proprio perché è claudicante e zoppica e quindi cerca di compensare facendo il supereroe e facendosi credere il leader della shazan family addirittura dando a billy del del capitano tutti poteri junior quindi vediamo in modo molto ben bilanciato la storia di freddy che conosce hannah e viene in un certo senso tradito e vediamo un po tutta la sua crescita il suo percorso e allo stesso tempo vediamo la storia di billy che invece ha appunto questa sindrome dell'impostore non si sente all'altezza non si sente degno ed è per questo che vuole coinvolgere sempre i propri fratelli allo stesso tempo vediamo che la shazan family non è molto unita perché mary anche se non è ben accennato non è molto approfondito è solo accennato in questo film mary marvel ha rinunciato al college per poter stare con la shazan family nonostante con i poteri che ha potrebbe avrebbe potuto tranquillamente raggiungerli in volo però pare che billy abbia insistito per per farli rimanere uniti e ora mary ne stia risentendo poi c'è anche la sottotrama di di pedro dove ci accenna semplicemente che appunto è nel nell'armadio quindi deve fare coming out come come gay come omosessuale e viene fatto questo sempre in modo molto divertente nel terzo atto quando è l'unico senza poteri e quindi quando tutti gli altri supereroi confessano i propri genitori che sono i loro figli pedro che è sempre pedro confessa di essere gay e questa è stata una scena molto carina soprattutto la reazione sia dei genitori che dei fratelli che già lo sapevano e che non hanno nessun problema a riguardo passano un pochino in secondo piano i restanti due membri della shazan family ma che comunque hanno un piccolo ruolo ma ma ben imbilanciato con tutto il resto parlando appunto del tono del film è una cosa che ho apprezzato anche nel primo ho apprezzato anche in questo secondo secondo me nel secondo me nel secondo film si alza un po troppo l'asticella dell'umorismo e si rischia in modo negativo il paragone con la marvel non vorrei che qualcuno dicesse ah eh sì ma c'è questo umorismo alla marvel ovvero questa questa cosa di spezzare sempre la tensione narrativa con una battuta anche in modo inappropriato in modo eccessivo ora shazam lo fa lo ha fatto anche nel primo film però lo ha fatto in meno ci sono stati meno momenti in cui lo ha fatto qua invece ogni scena è spezzata in questo modo e potrebbe ricordare troppo in modo negativo un film marvel questa cosa spero non venga fuori perché comunque in shazam ci sta tutto questo ci sta molto più che nei film marvel e quindi perché no finisco questo video come ho finito lo scorso video parlando appunto del doppiaggio dato che il doppiatore oltre a essere un doppiatore professionista non un talent ve lo ricordo è anche uno youtuber è anche un creator e devo dire che anche stavolta che gli posso dire ho apprezzato tantissimo il lavoro di di maurizio merluzzo anche perché nel momento in cui va in sala e senti la voce di maurizio su zac rilevai non pensi a maurizio quindi ormai è fuso con il personaggio di shazam ed è una cosa ottima per un doppiatore non dire ah ma questa è la voce di ok è bello riconoscerli ma è anche bello quando il doppiaggio è talmente fatto bene che ti fai trasportare dalla storia e manco te ne accorgi tra l'altro merluzzo è anche a fianco di doppiatrici storiche davvero importanti anche se so che probabilmente non hanno lavorato in nella stessa colonna perché ormai registrano tutti singolarmente però per esempio mi è piaciuto sentire la doppiatrice storica di lucy lu che è sempre barbara de bortoli che poi la stessa di baffi la mazza vampiri per intendersi mi è piaciuto in generale rivedere lucy lu sugli schermi che è un'attrice che apprezzo tantissimo dai tempi di ellie mcbill o di kill bill ma che dico da charlie's angels per quanto riguarda un ultimo appunto sulla controparte ragazzina dei nostri supereroi è evidente che in questo film sono cresciuti moltissimo freddi a malapena lo riconosco se non avesse avuto una stampella non l'avrei riconosciuto anche perché nello scorso film aveva sempre anche la berretta era era più piccolo di statura invece qua davvero si fa molta fatica a farli sembrare bambini lo stello lo stesso billy buxton è chiaramente un giovanotto è chiaramente un ragazzo in una scena quando è a scuola dici ma chi è il bidello cioè non può è troppo grande e quindi io spero vivamente che trovino il modo più consono per inserirli in shazam 3 perché altrimenti stonerebbe la cosa non so come potrebbero fare hanno già aiutato in questo film dicendo che billy buxton ha quasi 18 anni quindi si sa che nel prossimo sarà un adulto è ovvio che sarà sempre zac rilevare il protagonista insomma però spero che i protagonisti bambini restino giovani e sembrino giovani il più possibile almeno per fare l'ultimo film della trilogia poi chissà cosa succederà nel rilancio cinematografico del franchise dei dc studios probabilmente il soft reboot potrebbe aiutare in questo senso cambiando alcuni attori tra quelli più giovani spero di no per loro però potrebbe essere inevitabile fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film fatemi sapere se avete hype se avete curiosità se lo andate a vedere o se questa storia del reset del dc extended universe vi toglie hype a questo film io vi consiglio di vederlo indipendentemente da tutto perché indipendentemente da tutto è un buon film di supereroi è un film di supereroi davvero divertente ed è un buon film in generale quindi lasciate perdere che il dc extended universe verrà resettato magari ci sarà ancora shazam in quello dopo magari no sarà un nuovo attore questi film saranno in continui saranno in fuori continuity saranno da considerare come se non fossero mai esistiti chi se ne frega ragazzi chi se ne frega godetevi questo film perché è quello che ci vuole nei film di supereroi una ventata di freschezza di classicità di epicità e comunque di umorismo ben dosato fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video e alla prossima recensione di shazam 3 chissà quando succederà tra qualche anno e chissà se riuscirò a farla con qualche ospite particolare incrociamo le dita arrivederci